Da Fanno a Cantiano, la via Flaminia, i musei e le storie, si chiama così la nuova avventura che partirà a breve alla scoperta del linguaggio fotografico. Che cosa ha ideato Centrale Fotografia? L'intento è sempre quello di conoscere i luoghi e spesso capita che quelli vicino a noi sono i più sconosciuti. E poi naturalmente vogliamo anche approfondire il linguaggio e quindi tirare fuori le peculiarità individuali che speriamo i corsisti che parteciperanno a questo progetto abbiano così la voglia di metterlo a disposizione delle loro immagini. Quindi grazie alla rete museale delle Marche e in particolare della sua direttrice, l'archeologa Vanessa Lani, noi avremo la possibilità di avere delle idee, dei contenuti per sviluppare il nostro linguaggio fotografico. Quanti saranno gli incontri e come verranno suddivisi? Gli incontri sono sette e li faremo il sabato mattina. Ogni incontro è di tre ore e cercheremo di fare tutto quello che è nostra intenzione. Cioè quello di sviluppare la teoria della fotografia, tirar fuori alcune peculiarità tecniche e poi conoscere meglio il museo attraverso gli interventi di Vanessa Lani e poi cercare anche di fotografare i luoghi limitrofi al museo per poter capire un po' lo spirito di queste istituzioni. Il corso è aperto a tutti e com'è possibile iscriversi? Il corso è aperto a tutti e naturalmente chi si iscrive al corso dovrà fare l'iscrizione associativa per poter diventare tutti gli effetti socio di Centrale Fotografia e quindi avrà la possibilità anche di far parte del nostro festival, di esporre, di partecipare alle presentazioni dei libri, agli incontri, quindi in qualche modo di diventare un po' ossessivo nei confronti del linguaggio fotografico. Quindi è sufficiente contattarvi? Sì, potete contattarci in tutti i modi, i social, anche sul sito di Centrale Fotografia e quindi vi daremo anche ulteriori informazioni. Quando partirà ufficialmente il corso? Il corso inizierà il 21 settembre e terminerà il 30 novembre, quindi ci saranno anche delle pause che serviranno un po' a riflettere meglio sulle immagini che abbiamo fatto.